Ok, Gabriele, allora sei pronto per cominciare la nuova serie Vanilla? Sì, sì, sono pronto. Bene, e quindi... non lo so, partiamo il video? Eh sì, vai vai vai, siamo pure spawnati in un buon po'... Ma... ma cos'è quella cosa? Vabbè, cos'è? Ma non è una cosa... Vabbè, abbiamo fatto degli aggiornamenti a Minecraft. Aspetta, ma non è una cosa normale di Minecraft, quella? Non lo so, magari abbiamo fatto un aggiornamento. Boh, non lo so, ma a me non sembra normale, vabbè. Non penso, guarda com'è spawnata. Eh, appunto, in mezzo all'acqua. Vabbè, tanto avevo già partito, poi questa parte l'avrei tagliata, però... Visto che ci siamo andiamo a vedere cos'è, prepariamoci un pochino e poi andiamo a vedere. Va bene, prendiamo un po' di legna. Ok, allora andiamo, non ho fatto neanche la intro, però è che è successa questa cosa strana. Vabbè, vieni? Vabbè, vabbè, aspetta, fammi salire. Sì, ok. Sì, sono salito, vai vai. Andiamo. Comunque, cioè, non mi sembra una cosa originale di Minecraft, ecco. Perché... No, no, secondo me no. Ma te hai giunto qualche modo, no? No, 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 io ti ho chiamato, no? Volevo fare una vanilla con te e ho detto, vabbè, facciamo una vanilla, vediamo. Vabbè, un po' strano, aspetta, per salire dobbiamo mettere un blocco. Ce l'ha un blocco? No, ce l'ho quasi salito. Eh, appunto, pure io, però vabbè, spacchiamo con... Però, metto la mia crafting table, vai. Ah, è vero, vai. Aspetta, riprendo la barca perché ci può servire per tornare via. La barca, la crafting table la prendiamo dopo quando scegliamo. Sì, sì, sì. È strano. Eh, sì, appunto, è strano. E qua poi il bello è che non ci fa neanche... Salve una cosa. Dici alcuna cosa in chat. Eh, livello tri carta richiesta. Una carta? Boh, vabbè, spacchiamo, spacchiamo. Non c'è altro modo. Si spacchiamo. Aspetta, mi ha dato un blocco, aspetta. I blocchi sono pareti di sottolivello. Ma, ma poi... Sono blocchi... Ma cosa? ...strani. Oddio, un cartellino. Ma... SCP. Ma hanno aggiunto gli SCP su Minecraft o cosa? No, ma poi non li conosco tanto bene. No, appunto, a parte il numero sì si capisce, ma dall'immagine non si capisce niente. Eh, ma... È una cosa pizzella, ma te li conosci? Io li conosco. Sì, anch'io qualcuno li conosco, qualcuni li conosco. Con la serie che si è fatto su Roblox, alcuni dovremmo conoscere. Lo 0,96... Io li conosco abbastanza poco, però. In modo particolare lo 0,96, direi. Vabbè, comunque era meglio prenderci della carne. Ah, ma aspetta, ma lo 0,96 quindi è lo Shagai, giusto? Sì, bravo, bravo, lo Shagai. Comunque adesso dobbiamo entrare. Ah, certo, ma noi me lo ricordo che è un momento un pochino strano, scusa. Vieni, vieni. Ok, lì c'è... Aspetta, ma se lo Shagai non era quello brutto, cattivo... Sì, sì, bravo. Ah, ma non c'è niente. Oh, qua c'è una carta di livello 2. Delle batterie e una carta di livello 3. Allora, io prendo in uno di questi cassetti. Allora, c'è della carta... Io prendo le batterie, aspetta, ho trovato delle batterie, io me le prendo, ok? Ok, aspetta, ho lasciato, ho buttato delle carte, ok? Io direi di... Cosa sono quei... Ah, c'è una solcia, guarda che ho trovato una solcia. Ah, figo. Boh, io mi prendo questi cosi, magari potrebbero servire. Ah, ok, sì. Ma quei cosi, che cosa sono? Quali questi? Sono pezzi di carta, credo. Sì, sono pezzi di carta. A quale ti servono? Boh, ma che ne so, io senti. E poi ho trovato una carta di livello 3. Teoricamente questa dovrebbe aprire la porta fuori. Io prendo la di livello 2. Aspetta, vediamo se mi apre questa qui a me. A me quella fuori me la apre, per fortuna. Eh, sì, perché ti ricordo che diceva di livello 3. Infatti a me non mi apre questa. Sì, vabbè. E andiamo? Andiamo. Boh, non lo so. Vabbè, mi ripiazzo la porta, eh. Visto che... Qua è già preso qualcosa da quel tuo schedario. Qua c'è un libro. Qua c'è un libro. Tieni. Non servirà a niente. Vabbè, prendiamoli. Magari ci servono. Della carta. Li conservo io le cose. Dammi, dammi le cose che le conservo. Ok, tieni. Ti do pure questi pezzi di carta. Ammi tutto io. Anche gli schedari se li do. Perché magari se... Cioè, se ci dobbiamo fare una casa, ci dobbiamo mettere qualcosa. Ma sono anche buoni questi, anche se non capisco perché ce li abbiamo. Entriamo. Mi dice che serve una carta di livello 4. E vabbè, sfondiamo allora. Eh, appunto, visto che ancora non abbiamo le carte così potenti, sfondiamo. Ok, ma è sfondata una volta, ce l'ho. Allora, piazzala. Cioè, sì, vabbè. No, perché sennò se poi dobbiamo scappare. No, non la piazziamo, no. Però ricordiamoci. Ma io ho paura di due, scusa. È pericolosissimo, no? Io mi tengo dei blocchi in mano. Perché se magari dobbiamo scappare velocemente, bisogna tappare. Eh, bravo. Oppure scappare velocemente. Tieni, te ne do due anche a te. Tieni. Ok. Vai, grazie. Così due io e due sei, due dovrebbero bastare. Non dovrebbe saltare. Ehi, ma è conservato in questo blocco, no? Eh, appunto. E da quello che ho visto non ci sono porti. O almeno ai lati non ci sono porti. No, non ci sono proprio porti. Ma io, allora, io gli SCP non li conosco tanto bene. Ma io so che ci sono dei fascicoli con delle informazioni su di loro, su ognuno di loro. Bene, sì. Io non è che so proprio la storia dello 096. Qualcosa so, ma non troppo. Vabbè, vado un attimo a controllare. Da quello che ho letto nel fascicolo, dice che è conservato in un blocco di ferro e di marmo, come si vede qua. Ok. E la sua cella deve essere molto larga. E tutte le registrazioni delle telecamere della fondazione sono state cancellate. Perché anche se lo vedi in registrazione, da quello che ho capito, ti dovrebbe aggredire. Infatti questo qui, se lo guardi, ti aggredisce. Ok? Ma scusa, ma è come gli altri mob. Tipo, se ti fai, non fanno danno zombie. Lui ti lascia stare, no? No, 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 no. Lui ti insegue finché non... Magari non spaccare, grazie. No, no, non spacco. Ti insegue finché non ti uccide, capito? E quindi è molto pericoloso proprio per questa cosa. Ehm... Ok. Questo è attento, quindi, allora. Sì, proviamo a spaccare. Sì, ma un blocco, magari. Siamo con questi. Aspetta. Un codio è qui. È qui, è qui. No, non guardarlo. Non guardarlo. No, no, no. Basta non guardarlo in faccia. Lo possiamo guardare addosso a tutte le mani insanguinate. Ma non è che se lo guardi addosso, magari. Aspetta, attenti, perché lui si muove. Si è mosso, si è mosso. Se magari poi... No, non riesco sia di non farlo. No, io ho paura. Ok. Si è rivolto a dire, ok. Ok, mi tengo il blocco in mano se magari ci... Guarda dopo me, è tipo seduto. Eh, infatti, sì, è seduto lì e ha la bocca insanguinata e pure le mani... E anche i piedi, guarda le mani. Ma fa schifissimo, è bruttissimo. È qualcosa di orrendo. Poi da quello che ho... Ma sono state questi blocchi con cui è stato contenuto possono essere spaccati? Ehm, non lo so. È meglio non spaccarli, però, dicono, nel fascicolo. E poi sto leggendo, c'è scritto anche nel fascicolo che... Ha le braccia molto lunghe e la sua mascella si può aprire quattro volte... Eh, infatti lo vedo. Si può aprire per quattro volte più di un umano normale. Quindi, cioè, è bruttissimo. No, no, ma questo... Questo è una cosa bruttissimo. L'ho guardato, forse. No, non si è attivato, però, credo. L'ho guardato. L'ho guardato? No, però non si è... No, non si è attivato, non si è attivato. Non si è arrabbiato. Però, cioè, io vorrei vedere cosa fa. Quindi qualcuno... Qualcuno soccandare lì dentro e guardare. No, no, no. Non possiamo guardarlo da fuori, magari. Eh, però io volevo... Io volevo provare anche ad entrare dentro. Quindi... Allora, facciamo così. Io ti do la carta di livello 3. I blocchi. Così se... Se mi uccide tappi, ok? E ti do pure le mie... Ok, io fa. Ti do pure tutte le mie cose. Così... Vai, dammi tutti. Sì, ti do tutto, così. Spaccami qua. Così, se mi uccide, sono sicuro, ecco. Ma sei sicuro di volentieri? Sì, sì. Non possiamo guardare da qui? Eh, sì, ma da qui, se no, non possiamo... Cioè, io lo volevo scoprire un po' meglio, questo SCP. Vabbè, vai. Vabbè, tanto se... Va bene, vai. Adesso ti spacco qui, attento. Sì, sì, ok. Ti dammi dopo, ok, vai. Allora, io sono dentro. Non l'ho guardato. Allora, aspetta, eh. Ma io ti chiudo dentro? Eh, sì, sì. Se no, magari esce. Allora, lo sto vedendo... Io ti chiudo, eh. Lo sto vedendo leggermente con F5, con la visuale... Bene. Con la terza persona. Eh, fai bene. E, ecco, lo vedo in faccia, però con la terza persona. Cioè, con la persona ai sini dalle spalle. Sì, fai bene, perché così almeno non si è attivo. È brutto! Tanto brutto. Poi c'ha tipo la pancia, che ora su Minecraft non si vede bene, ma è tipo secco. Molto secco, sembra. No, bruttissimo. Ma infatti è bruttissimo. È brutto. Allora, adesso io... Allora, adesso facciamo così. Adesso io mi avvicino, mi giro, piano piano. Vado da questa parte, che teoricamente se lo guardo di spalle non dovrebbe fare nulla. Torno un attimino in F5 per vederlo meglio. Ok, infatti c'ha le braccia molto lunghe. Vabbè, io mi provo a girare, ok? Provo a girarmi e a guardarlo, ok? Va bene, va bene. Allora vado, eh? Ti ho paura. Vado, eh? Lo faccio... Sì, vai. Lo sto guardando, eh? Sì... Aiuto! Che versi? Ma fa dei versi bruttissimi! No, no, no! Ti sento, li sento. Guardi, tu facci uscire? Fammi uscire, fammi... No, 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 lasciami, lasciami, se no... Prendi anche te. Se lo picchi non succede niente, è vero? No, 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 sono morto, sono morto, sono morto. Ora, lui sta facendo dei versi bruttissimi. Sta facendo... Ai, ai, che... Danno fastidio alle orecchie. Mi stanno facendo un pochino, eh? Danno fastidissimo alle orecchie. No, io sono chiuso qua, non posso fare niente, mi deve uccidere per forza. Ora che sei alzato lo vedo un po' meglio. Ecco, sono morto, però... Quando era alto, quando era alzato lo vedevo un po' meglio. Sto tornando da te, se mi ricordo dov'eri. Quando era alzato... Quando era alzato lo vedevo un po' meglio. E vedevo che, tipo, era... Aveva tutta la schiena strana, anche la schiena... E poi c'aveva... Pure le gambe un pochino più strane del solito. Cioè, no, nel solito, nel senso, da come le vedevo quando era inginocchiato. Vabbè, e... Si è calmato o non lo fa più l'urlo? Sì, sì, ma a me non mi dovrebbe attaccare perché, infatti... C'è uno scheletro, c'è uno scheletro, sto scappando, aspetta. Poi mi sono allontanata anche un po'. Ecco, ti vedo, vieni qua che ti ridò la tua carta. Sì, vengo, vengo, vengo. Poi dovremmo pure trovare delle carte più alte, perché sennò, tipo, quella porta di livello 4 non la possiamo aprire. Infatti, non dobbiamo sempre bucare, perché se le buchiamo, magari poi si scappa. Potrebbero scappare, eh, appunto, potrebbero scappare. Vai, dammi la key card. Sì, dammi, aspetta. Ok. Sì, ok, sì, 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 tutta la roba, sì, grazie. Ok, la tua barca. Bene, allora, io direi che questo episodio può anche concludersi qua. Cioè, abbiamo visto il primo SCP, se ce ne sono altri o no. Anche se non è, va bene. Non lo so se ce ne... Come ne faccio una base? Sì, appunto, non lo so. Magari, ora, proprio qui vicino, no? Un po' più qua. No, 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 lo so che andiamo più lontano. Più lontano, sì, tipo di là, bravo, bravo. Eh, non so se ce ne sono altri. Cioè, ma te hai messo mod? Sei sicuro di non aver messo mod, vero? No, 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 no. Ridammi gli schedari. Io non le ho messo le mod. Ridammi un attimo gli schedari. Sono proprio sicuro, eh, di non aver messo le mod. Tieni. Ok. Vabbè, io, per sicurezza... Perché non me lo prende? Ok. Per sicurezza... Sì, c'è la prende. Per sicurezza mi porto pure una porta. Tanto lui è bloccato lì dentro, teoricamente. Una porta più il bottone, ok? Giusto, giusto. E questo mi sembra di livello 3. Sì, ho appena potuto poi aprire. Questo bottone è di livello 3, sì, bene. Allora, adesso... Do la forza, magari così puoi vedere. Sì, ok. Adesso andiamo verso di là, che magari troviamo un posto per farci la base. Ehm... Ok, vabbè, andiamo. Vieni, saliamo. Secondo te, comunque... Ora, mentre andiamo a casa... Secondo te ce ne sono altri di SCP in questo mondo? Secondo me sì, perché se c'è lo Shagash ci sono anche tutti gli altri. Sì, infatti, hai ragione.